Come dicevo, la Festa del Cinema di Roma è anche musica e oggi ho incontrato una cantante siciliana che ha pubblicato da poco un nuovo album e che mi ha cantato un pezzettino della sua hit più famosa A Casa di Luca, sempre qui alla Festa del Cinema, quello è il titolo della canzone, naturalmente. Buonasera Silvia Salemi. Buonasera. Cosa fa una cantante alla Festa del Cinema di Roma? Quest'anno il premio videoclip è stato inserito nella manifestazione della Festa del Cinema di Roma e saremo premiati per il video di Potrebbe Essere, scritto da Gaetano Morbioli e quindi all'interno di questo contenitore siamo qui. Ed è un brano del tuo nuovo album 23? 23, esattamente. Sono molto contenta perché poi è una regia importante e quindi merita anche un riconoscimento importante. questo grande regista. Senti, hai una borsa meravigliosa che non so se hai voglia di mostrare in video. A proposito di rock, quali sono le influenze musicali di quest'album di 23? Guarda, quest'album è un album liberatorio, deciso dopo dieci anni che non ero nella musica di fare un album libero e quindi anche le sonorità sono libere. Mi sono ispirata un po' alle mie origini che sono anni 80 chiaramente rivisitate con l'elettronica moderna e sempre con un imprinting di sound vero, suonato veramente. Quindi è un po' una miscellanea. Senti, c'è una tua canzone che conoscono veramente tutti e ti andrebbe di farne un pezzettino per in forma di rosa. E adesso, qui davanti a tutti.